quello che sto dicendoti allora parlavamo appunto dei dati del ruolo della sanità privata rispondendo a un messaggio che era arrivato stiamo parlando di sanità privata che era di supporto a quella pubblica per cui certo privata ma il cittadino non doveva sborsare soldi ma la pagava con dei costi stabiliti, bassi, eccetera la regione a fronte di un semplice ticket adesso invece questo non è più possibile e quindi queste strutture private che fine fanno? e che supporto possono dare fino a che termini? in che termini? adesso questo c'è uno che ha bisogno, un esempio banale signore come diceva che si rompe il femore che ha bisogno di una struttura riabilitativa e che in ospedale non ce n'è perché tanto sappiamo come funziona l'ospedale cosa fa? pensionato a 1100, 900 euro ma diciamo generalmente a parte casi come quello che hai citato ora dove comunque la struttura ILEA i cosiddetti livelli di cura di assistenza minimi stabiliti dalla regione Veneto garantiscono un ciclo la prima riabilitazione in struttura protetta e successivamente una volta che è arrivato a domicilio un ciclo sempre di 15 giorni di riabilitazione domiciliare il problema viene dopo nel senso che una frattura di femore non è che con un mese di fisioterapia si risolva in un anziano richiede di proseguire spesso per più cicli, per mesi in modo di fargli riacquistare una sufficiente autonomia ecco a questo punto si pone il problema di dove oggi se uno deve aspettare di entrare a fare la fisioterapia dentro la struttura pubblica ci entra dopo sei mesi i miei pazienti non ho mai saputo che uno riesca a avere in tempo reale la struttura pubblica perché i posti che ha a disposizione non sono tantissimi e quindi li riserva ai ricoverati e a coloro che eseguono la fase iniziale i primi 15 giorni senza le strutture accreditate non ci sarebbe di fatto riabilitazione questo bisogna dirlo ed è una riabilitazione che non costa niente se si va a vedere cosa viene rimborsata qualsiasi seduta di fisioterapia quelle che vengono rimborsate perché poi purtroppo molte sono state tolte per esempio la massoterapia è stata di fatto tolta da questi LEA da questi livelli riconosciuti di assistenza a tutti i cittadini che uno se la vuole fare se la deve pagare se la deve pagare tutte le altre che ne so quelle di tutte le terapie che si fanno in genere con la mediazione di strumenti sono rimborsati ma vengono rimborsati pochi euro per seduta quindi con dei costi bassissimi e quindi questa gente o se li paga alla fine o se li pagherà oppure si mette in prenotazione perché chiaramente queste strutture nel momento in cui hanno avuto un budget e lo devono rispettare Certo, se si non possono ovviamente derogare Lavorano fino a che hanno raggiunto quel budget dopodiché non è che possono regalare l'attività che fanno anche se molte strutture di fatto tirano la cinghia e piuttosto di far lavorare di non far lavorare i propri dipendenti li continuano, li tengono li fanno lavorare anche in condizioni spesso di mancato poi il recupero finanziario sperando magari che ci sia qualche extra budget finale da risuddividere come in parte è stato nell'US di Padova lo scorso anno quindi per quanto riguarda il 2013 oppure sa che rimetterà quelle cifre lì Chiaramente questo sta in piedi per un certo periodo dopodiché va a saltare Comunque possiamo immaginare una persona che ha bisogno di un intervento immediato ma anche forse una semplice diagnostica che è tanto semplice e magari non è che cosa vuol dire doverla aspettare o doverla pagare in tasca propria Buona telefonata, pronto? Sì, buongiorno Pavanello Sì, buongiorno Buongiorno Complimenti per la trasmissione Grazie Volevo chiedere due cose al dottore presente ma secondo lei dottore non crede che facendo troppe visite verso i privati si possa incorrere o anche eventualmente cose specifiche tipo ecografie, mappature dei nei o altre cose si possa incorrere su un qualcosa di troppo superficiale e mi spiego meglio se io ho bisogno di una mappatura per i nei vado ad ospedali tipo il Mi Guarda e so che c'è la miglior macchina che c'è in Italia però so di avere una visita certa e un qualcosa di sicuro ma se la stessa visita la faccio da un privato che razza di attrezzature posso trovare io come cittadino cioè non è che rischiamo di fare delle visite superficiali e di ingrassare quella che è una parte privata che non è all'altezza dell'ospedale pubblico di qualità cioè non parlo di un privato tipo l'ospedale Galeassi ma stiamo parlando a volte di privati che sono dei piccoli centri delle piccole case di cura che non si sa se sono attrezzate o meno C'è una domanda il rottore Chiarissimo Grazie signor Pavanello La prevenzione dal melanoma è un atto medico particolarmente importante e oggi sofisticato in quanto vi sono appunto degli ingranditori degli strumenti che consentano una diagnosi preoperatoria molto più sicura di quanto avveniva negli anni scorsi In realtà i centri per la prevenzione del melanoma in Veneto io conosco quello che c'è qui a Padova all'OIOV piuttosto anche quello gestito dalla Lega Italiana contro i tumori che ha sede al Vignasico e che ha un ambulatorio all'Arcella sono strutture dotate della strumentazione per dare risposte in linea con quelli che sono i requisiti che oggi di standard che ci sono oggi qui in Italia Però mettiamo questo è il caso di Padova però magari mi pare che poi il signore chiami da Belluno peraltro in un'altra località cioè dicevi un ambulatorio che ti fa magari una diagnostica ma non ha l'apparecchiatura oppure c'era un messaggio che è arrivato poco fa che diceva mi hanno detto che per il mio problema di denti devo andare privatamente perché particolarmente ci sono tantissimi casi quindi diceva non è che il privato non è attrezzato sempre per altezza può anche essere che sia come dice il telespettatore io credo che ognuno di noi debba consultare sempre il suo medico di famiglia che saprà indicargli dove troverà la risposta migliore più qualificata quindi più certa rispetto al quesito che lui ha io non so giudicare nelle altre realtà io credo che in tutti i presidi ospedalieri vi sia un centro per la prevenzione del melanoma va bene, credo che uno debba andare in questi centri la sanità privata non mi risulta che in Veneto abbia numero, forse nemmeno uno di questi centri in gestione quindi il problema non lo vedo tanto in rapporto al pubblico privato ma in quanto che ci siano strutture che poi siano pubblico private tutto sommato è poco lei dice per il privato da noi è privato l'ambulatorio della Lega Italiana contro i timori è un ambulatorio privato accreditato si va con l'impegnativo del meco di base ma è un ambulatorio sicuramente qualificato è un'associazione non profit però è la stessa stregua di tutte le altre strutture private accreditate quindi quelli che sono accreditati erano comunque, sono comunque quelli esistenti a livello della sanità pubblica quindi non si va se uno per sapere se è un melanoma o meno va da un dermatologo tra virgolette semplice non me ne vogliono i colleghi dermatologi bene credo che siano loro stessi poi che dicono guardi con quello che ho a disposizione posso dare una risposta sicura oppure è meglio che lei vada da un'altra parte insomma oggi la diagnostica sappiamo che richiede spesso per essere certa di essere strumentata in modo altamente qualificato e quindi anche costose non tutti ovviamente sono in grado di avere questo tipo di strumentazione ecco perfetto anche perché appunto un dermatologo che prende per le visite successive 14 euro a visita capite anche voi in convenzione chiaramente non vorrei che nessuno trevasse io ho pagato più di 100 euro quelle sono tariffe private noi stiamo parlando della sanità privata accreditata quindi che lavora con le tariffe rimborsate poi da l'US e l'US rimborsa quei soldi lì con quei soldi è difficile acquistare grandi strumentazioni ma con quei soldi come facevano? non solo se posso dire una cosa io conosco una mia amica che è ginecologa una bravissima ginecologa convenzionata che è stata costretta è costretta a non fare più visite ostetriche in convenzione perché non arriva a pagarsi l'assicurazione oggi un ginecologo per fare l'ostetrico deve spendere in privato fino a 15.000 euro all'anno di assicurazione solo per assicurarsi capite bene che le visite ginecologiche ostetriche pagate 20 la prima e tutte le altre 14 euro e deve pagarsi tutto quando mai dovrebbe lavorare forse se lavora molto per pagare l'assicurazione questo è ecco ma allora la struttura privata se riceveva dall'USL queste cifre modiche come faceva a reggersi in piedi e non ricevendo più queste cifre modiche com'è che ha dovuto lasciare a casa tutte queste persone? cioè come faceva a stare in piedi solo su questi importi? ma di fatto era difficile sul numero in un'economia di scala si riesce anche a suddividere i costi tra tante prestazioni riducendo il budget e quindi riducendo il numero delle prestazioni i conti non tornano più assolutamente andiamo a vedere un po' la riforma sociosanitaria quindi il ruolo anche dei medici di medicina generale che va via via rivoluzionandosi e il ricorso anche al pronto soccorso che dovrebbe diminuire l'adegenza ospedaliera essere ridotta ai minimi termini però mancano le istrutture diciamo di supporto quelle che dovrebbero ovviare alla domiciliarietà ad essere l'intermezzo tra l'ospedale e le pareti domestiche come la vede da medico? Guardi la vedo un po' come così un'utopia da un certo punto di vista ma era una buona riforma o no? Ma guardi oggi la figura che in tutte in tutti i sondaggi ha il maggior numero di di valorizzazione diciamo la percentuale più alta di giudizi positivi da sempre siamo sopra il 90% è la figura del medico di base va bene di cui si parla anche male a volte comunque sostanzialmente insomma quando si fa si chiede cosa pensa del suo medico di base dell'ospedale della diagnostica ambulatoriale e così via il giudizio l'apprezzamento più alto c'era sempre il medico di base allora prima domanda che mi faccio da dove nasce tutta questa voglia di riformare una cosa dove c'è un giudizio positivo andiamo a vedere prima dove c'è un giudizio non così elevato no? non così buono e cominciamo da lì andiamo a chiedere ai pazienti ma quando il vostro medico vi prescrive una risonanza magnetica siete contenti del tempo che dovete attendere per eseguirla? punto di domanda cominciamo a porre le domande vere invece no si vuole cambiare il medico di base non si sa perché o meglio si sa anche perché anche il medico di base è un privato non è un dipendente è un privato tra virgolette accreditato a una convenzione sua contrattualmente stipulata a livello nazionale che prevede dei doveri reciproci tra ulse cittadino e medico stesso va bene quindi è comunque una persona che è non governabile interalmente come lo può essere un dipendente quindi c'è questa voglia di per certi aspetti di metterci un po' la mano sopra l'altro punto in questione è che viene giustamente anche visto il medico di base come uno dei punti di regolazione della spesa sanitaria abbiamo visto sulla stampa pochi giorni fa che il sindacato che maggiormente rappresenta i medici cioè la FIMS ha detto no al patto che l'ULS ha proposto di firmare i medici patto con il quale ogni medico si impegna a non spendere più di 120 euro di media all'anno per paziente in prestazioni farmacologiche cioè in medicine no? quindi in cambio di un tot di euro pro capite in più nell'onorario del medico quindi uno scambio venale io ti do di più a te medico se prescrivi medicine che costano di meno non se prescrivi medicine giuste no devono costare di meno il requisito ecco chiudiamo questa parentesi realmente pazzesca vuol dire c'è questa tendenza quindi a volerlo inglobare in un sistema di spesa controllata e quindi di ridurre la sua autonomia c'è un altro aspetto che spiega in parte il tentativo di modificare la figura del medico di base che è quello della possibilità di ridurre le fila agli accessi ai pronti soccorso in che modo mettendo insieme più medici dotandoli di alcuni strumenti per consentire loro di arrivare ad una delle diagnosi almeno quelle più comuni iniziali quindi consentendo negli stessi medici poi di mettere in atto una terapia o un processo diagnostico di secondo livello che salti l'accesso al pronto soccorso ma questi sono tutti tentativi secondo me destinati a fallire perché oggi un paziente non è che chiede a me l'incertezza viene da me con un sospetto di un infarto io cosa gli posso fare un elettrocardiogramma va bene ma quando mai sulla base di un ECG io potrò dirgli no lei non ha un infarto sappiamo tutti che con il solo ECG non si può servono degli altri dati servono per esempio degli esami del sangue che chiaramente lì non li potrò fare va bene quindi comunque avrò bisogno la radiologia come fa ma avere una strumentazione radiologica a norma con tutte le figure la radioproteggione è impossibile pensare che ogni gruppo di medicina di base in realtà dove queste cosiddette UTAP sono state costituite da quello che so io ho visto dei dati dell'Emilia Romagna e hanno avuto una valutazione negativa tra quello che è il costo la risorsa impiegata perché in questi casi l'Ulss si impegna in genere a dare sia la parte logistica quindi gli ambulatori che anche la parte professionale non medica quindi la segretaria all'infermiere e così via ovviamente perché altrimenti i medici con il loro onorario che poi non è così elevatissimo oggi come oggi non possono certo farsi carico di tutte queste figure quindi si tratta di una sperimentazione di una direzione che anche la regione Veneto vuole portare avanti a mio parere che non porterà da nessuna parte e c'è un ultimo aspetto che per me è il principale ed è quello per cui io personalmente fino ad oggi insieme anche ai miei amici medici con cui condividiamo alcuni servizi insieme attraverso la medicina di gruppo la motivazione principale dicevo per cui sono contrario è quello che comunque si entra in una logica che nel tempo porta a spersonalizzare il rapporto col paziente oggi credo che la risorsa principale della medicina di base sia la conoscenza diretta che c'è tra il medico e i suoi pazienti perché lo segue completamente da quando sono nati poco dopo dai 12 anni fino avanti avanti negli anni questo elemento della conoscenza del rapporto diretto per me è la risorsa è il valore più importante da salvaguardare e quindi entrare in una logica di gruppo dove se ci sono io bene se no puoi andare da qualsiasi altro va bene si spersonalizza prendendo da quello che è la struttura pubblica l'aspetto forse peggiore quell'aspetto per cui se io vado in una struttura pubblica e chiedo di essere visto da medico tal di tal come dicevamo all'inizio della trasmissione mi dicono non si può o se lo vuole se lo deve pagare chiarissimo torniamo su questi temi andiamo subito in pubblicità poi l'ultima parte insieme all'inizio in pubblicità